Prima litiga con la convivente, le strappa di mano al cellulare, l'aggredisce, le urla della donna, allertano i vicini che chiamano i carabinieri. Quando i militari arrivano in via Fratelli Fontana a Monselice, un uomo di 30 anni, marocchino, si scaglia anche contro di loro. L'uomo irregolare è stato arrestato, prima ha tentato di fuggire, poi di colpire i carabinieri che però lo hanno bloccato. Lo straniero è stato processato con rito direttissimo, l'arresto è stato convalidato con l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora a Monselice. Grazie.